Prosegue l'avventura dell'Associazione Teatro Fratellanza con una rassegna promiscua. Promiscua, sì, in effetti potrebbe essere un termine giusto, nel senso che questa è la terza edizione della rassegna teatrale di fine inverno che noi come gruppo teatrale organizziamo e la facciamo di solito mettendo assieme sia il teatro dialettale che quello in lingua. Quest'anno saranno cinque serate partendo col dialettale che occuperanno il 27 febbraio, il 5 di marzo, il 12 di marzo e si chiuderà la parte diciamo dialettale e poi si riprenderà con il 19 in lingua, si salterà la pausa pasquale e si riprenderà poi il 2 di aprile per chiudere questa rassegna. Si parte dunque col teatro in dialetto e vediamo nel dettaglio questi tre spettacoli. Sì, nel dettaglio iniziamo col botto, nel senso che abbiamo cercato una compagnia di una certa rilevanza che è la compagnia Barcella di San Paolo d'Algon che presenta una comedia dialettale interessante, chiave per due che è la storia di una signora benestante, piacevole di 50 anni che lasciata dal marito rozzo e violento si vuole dedicare un po' alla bella vita e cosa fa? Si fa due amanti, chiaramente due amanti all'insaputa uno dell'altro e potete immaginare cosa succederà in una situazione di questo tipo entrambi hanno la chiave dell'appartamento e quindi avrà il suo bel da fare a cercare di far bilanciare bene le cose e questo lo scoprirete venendo a vederla. Poi si prosegue, quindi innanzitutto devo dire che tutti gli spettacoli inizieranno alle 20.45. Quindi si chiude febbraio, si inizia con marzo. 5 marzo, compagnia dialettale, l'arcobaleno di Gromo, presenta lo spettacolo per Solch, per Onur, per Amur. È la storia praticamente di un uomo che vive in modo nostalgico un amore giovanile che vorrebbe riscoprire, vorrebbe rincontrare e questo gli accadrà e questo naturalmente gli cambierà la vita. Dopodiché si continua, si continua passando quindi al 12 di marzo. 12 di marzo, la compagnia Teatro 2000 di Torre Boldone, presente invece Tosec. Immaginate la storia di un capofamiglia esasperato, distrutto, da una moglie arpia, da due figli maschio e femmina, la Zaru, come si dice, che lo spingeranno verso un atto spietato che comunque non sarà in grado di commettere, quindi anche qui ci sarà da ridere. Quindi in questo modo si chiude l'aspetto del dialettale. Il 19 si riprende con la commedia in italiano. La compagnia Sperandeo di Medolago, che è stata molte volte ospite nelle nostre rassegne, è una compagnia di giovani molto attiva, molto brillante, e racconterà la storia ambientata innanzitutto negli anni 70 a Milano di una famiglia piccolo-borghese un po' così abituata ai suoi ritmi e si vedrà sconvolgersi mano a mano, si andrà avanti tutto il suo equilibrio e il suo piccolo-borghese creando situazioni quasi paradossali, quindi ci sarà da ridere. Pausa, diciamo, pasquale e il 2 di aprile finalmente anche noi siamo pronti per presentare uno spettacolo nostro come compagnia del Teatro Fatellanza. È Il piacere di essere malata, che è praticamente la storia di una donna anziana ipocondriaca che si attornia di persone che cercano di guarirla e lei naturalmente cercherà di far sposare una sua attempata figlia con uno di questi per avere poi la protezione in casa e figuratevi cosa succederà visto che comunque la figlia è innamorata di un'altra persona.